Allora a tutti ragazzi qui da Vox e stiamo su un nuovo testo di Ford's Horizon 4 Per prima cosa direi di no, voglio un fuoristrada Mi date un fuoristrada Dov'è il mio Ford F-150? Anche lui è carino, quindi prenderei un'altra macchina oggi Voglio prendermi il mio bel maggioletto No, è un po' scarso Prenderò il mio camion, no, non lo so, perché mi piacciono tutte queste macchine Mi piacciono tutte, quindi voglio un Ford Dov'è il mio Ford? Voglio un Ford Dov'è il mio Ford? Dov'è il mio Ford? Dov'è il mio Ford? Anche lui è carino Vendo la Morghini Urus Concept oggi Sì, 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 sì Stiamo cercando uno dei gioielli dimenticati Che si trovano solo nei mesi invernali, diciamo Vedete, in quest'area qua, poco sopra il lago Non so esattamente dove si possa trovare Però io là in Ford vedete che vedo qualcosa Visto che stiamo parlando comunque di un Un casale o qualcosa così Deve essere anche quello Non può essere No, questo è inguidabile così ragazzi Ci serve un'auto un po' più Seria Ah, round 1 completato Vabbè, io non lo sto facendo Ma dato che sono solamente entrando un attimo Non posso, mi piace, grazie Ma quella è troppo fuori Perché inizia da qua Potrebbe essere qui Potrebbe essere quello probabilmente Probabilmente sarà quello Immagino che sì Qua c'è un altro decolo molto vicino qua Dai, è questo, è questo Per forza, immaginavo, immaginavo Non so che macchina sia Vediamo un attimo Vediamo un attimo Beh, un Range Rover fin qua Ci siamo Che Range Rover è però Che Range Rover è però Buona cosa è che è un Range Rover Queste cose sono invincibili Madonna E vede Ed è morito Non so quanto possa valere un Range Rover del genere Penso al mente Non cazzo di nulla Comunque signore Io direi che l'appuntamento di oggi Può finire qua Ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti